Oggi ti parlo di una cosa fondamentale per te e cioè la proposta economica. Nel video precedente ti parlavo di quanto sia importante arrivare alla proposta economica dopo diversi passaggi per capire innanzitutto la fattibilità tecnica, per capire anche quali possono essere i consumi, per capire se effettivamente i contributi nel caso tuo ci sono oppure no, per capire se tu vuoi fare l'accessione del credito oppure no. Insomma tanti passaggi servono per poi arrivare a questo passaggio fondamentale cioè la proposta economica. Se vuoi vedere anche tu l'applicazione pratica all'interno di casa tua del protocollo Biomassa Sicura beh la cosa è semplice, basta che tu clicchi nel link qui in descrizione ti riporterà a una pagina del mio blog, leggiti un secondo la pagina e poi schiaccia il bottone per aderire al primo dei passaggi cioè la richiesta di preanalisi di fattibilità. In questo caso ti assicuro che è tutto gratuito però così anche tu potrai avere delle informazioni pratiche sul protocollo Biomassa Sicura applicato non in maniera generica ma a casa tua. Quindi clicca qui sotto e noi ci vediamo. La proposta economica i miei partner installatori te la faranno solamente dopo solamente dopo essere sicuri loro, io e anche te che la soluzione che ti andranno a proporre sarà quella migliore per te. In caso contrario il partner installatore te l'assicuro io ha l'umiltà di dirti che per casa tua la Biomassa non va bene. Se arriva invece a farti una proposta economica vuol dire che tutti i passaggi precedentemente fatti ed eseguiti hanno avuto esito positivo e quindi la Biomassa può essere un prodotto che fa per te e che può soddisfare le tue aspettative. Scusami ma ho qualche zanzara che ogni tanto mi arriva e dai collo ai piedi. Che cosa ti devi aspettare in questa proposta economica? Beh non vado a svelarti niente altrimenti il video sarebbe un video lunghissimo però ti dico solamente che avrai una proposta economica in linea con quelle che sono le tue aspettative ma soprattutto la proposta sarà certa, sicura e non ci saranno sorprese di neanche un euro fuori dalla proposta nel momento in cui tu decidi di realizzare il tuo sistema a Biomassa complessa. Bene, noi come al solito ci vediamo domani e domani ti parlo di due cose fondamentali e cioè la progettazione idraulica e gli schemi elettrici. A domani, ciao! Grazie a tutti!